Siamo qui ragazzi in zona molto delicata, abbiamo massaggio alla prostata, questo è un liquido ultra benefico per il vostro corpo da prostatare, ok? Con il vostro dito medio, logicamente il tuo compagno, per poterlo addescare e portarlo da questo grande riscoperta di sé, spuzzatina di questo spray e naturalmente solo qui lo potete comprare. E dopo di che sarà vostro, per il vostro indice medio, poterlo massaggiare internamente, portandolo nella sua parte più recondide e più sconosciuta a sé stesso e dargli quel piacere che naturalmente solo noi sappiamo dare. Lo spray è una bomba, il tuo dito è magia, la vostra soddisfazione è il nostro miglior risultato, l'avete sentito anche voi? Adesso sì eh, ciao ragazzi!